In corso ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, il festival Mandorlo in Fiore, una festa simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, come sottolineato dal sindaco Franco Miccichè. Il festival del Mandorlo in Fiore ha radici profonde nella storia e nella cultura siciliana. La fioritura dei mandorli, infatti, simboleggia da sempre la rinascita della natura dopo il rigido inverno. Numerosi turisti giunti ad Agrigento per la manifestazione Folk, che da sempre testimonia l'avvento precoce della primavera e il messaggio di pace e concordia tra i popoli, simboleggiato dal tripode dell'amicizia, acceso un martedì davanti al Tempio della Concordia. La manifestazione, promossa dal Comune, proseguirà fino a domenica 17 marzo, tra danza, musica, animazione, intrattenimento, spettacoli, mostre, artigianato, enogastronomia ed esibizioni di gruppi folk stranieri provenienti da ben 22 paesi del mondo.